Lì a Malinov, sconfitta 3-1 con la Cina, qualche parola, che partita è stata? Siamo partite un po' tese forse, poi il fatto perché magari ci troviamo in casa loro, non siamo riusciti a sfruttare alcune occasioni nei primi due set e quindi siamo state brave a uscire fuori, tanti abbiamo rischiato abbastanza il terzo set, però loro sono sempre andati al massimo e siamo riusciti a recuperare. Adesso si riparte per un altro weekend importante, in Russia ci si gioca la qualificazione? Certo, adesso andiamo in Russia e abbiamo un'altra tappa molto importante sicuramente e dovremo dare il massimo di tutte le partite per poter accedere alla qualificazione in Giappone. Un po' emozionata a partire dall'inizio in generale? Sì, ero abbastanza emozionata e molto contenta perché mi è stata data questa opportunità, mi spiace un po' non aver sfruttato al massimo, però va bene.